25 vitellini morti bruciati dal rogo del locale dove erano accolti e 400 bovini messi in salvo dai vigili del fuoco, danni enormi alle strutture purtroppo per la perdita dei capi più giovani, quelli provocati dal rogo scaturito alle ore 15 all'interno dell'azienda agricola Verde Oro in via Fratta 221, località Canevare di Fanano. Le fiamme hanno intaccato inizialmente uno stabile dove erano presenti numerosi vitellini e poi si è propagato alla stalla con all'interno circa 400 capi di bovini. Nelle immagini alcuni di quelli fatti uscire messi in salvo dai vigili del fuoco in altri cappannoni ed aree dell'azienda. Alla fine i vigili del fuoco riusciranno a metterne in salvo tutti, esclusi purtroppo i vitellini avvolti dal rogo senza possibilità di uscita. Lo stabile dove si trovavano era completamente avvolto dalle fiamme al loro arrivo. Sul posto da subito si sono recate due squadre di vigili del fuoco volontari di Fanano con mezzi attrezzati e motopompa coudevati successivamente dalle squadre arrivate da Pavullo, Vignola, Piepe Pelago e l'autoscala della sede centrale e il funzionario di guardia. Ancora in corso le operazioni di spegnimento sul posto anche 118 carabinieri e polizia locale per la sicurezza dell'area e per i primi rilievi.